Ri buongiorno a tutti i belli e brutti Ri buongiorno a tutti i belli e brutti Eeeh Caro prescritto ogni tanto vedi che devo farti un video guarda ricordati che queste location te le dedico sempre perché lo sai che ti punzecchio ma ti voglio bene no prescritto perché senza di te no a chi romperai i coglioni a chi romperai i coglioni senza di te guarda che bella location prescritto guarda nessuno mai ti dedicherà la location di Michelone guardate guarda che roba insomma caro prescritto ho sentito cose brutte ho sentito cose brutte adesso questo è perché io sapete che seguo il sergione no e quello là è come un pit quando becca l'osso non lo molla quello là sapete che tempo fa poco tempo fa è stato arrestato il socio lì di di Zhang no lì in Cina lì quel socio quello mi pare che era il presidente della della lega lì del calcio cinese no è stato arrestato per corruzione perché quelli là non scherzano quelli là ti prendono ti mettono nel gabio e lì ci resti a quelli là a quelli là non frega un cazzo sbagli va in galera verso nei paesi dell'est non scherzi tanto e poi quando lì va in galera non è che c'è la televisione che c'è no 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 guardate che in Cina le prigioni sono come i campi di concentramento e adesso ho sentito ho sentito il sergione ho sentito il sergione nel suo video che il signor Zhang il presidente dell'Inter non si trova più non si trova più diceva diceva che quando sono andati a fare questa tutela in Giappone già era stato estradato dal Giappone in Cina perché sapete i debiti che ha le banche le denunce perché questo quello lì è pieno di denunce è pieno di debiti è stato è stato estradato dal Giappone che addirittura nell'ultima conferenza stampa nel conferenza stampa scusate nell'ultimo sapete che fanno le riunioni le riunioni ogni mese ogni ogni mese ogni due mesi fanno le le riunioni via 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 web via no e non c'è è sparito non si trova adesso tutto tace tutto tace perché questa è una notizia ragazzi che se è vera che se è vera pare che l'abbiano però è ancora tutta questa notizia io non dico niente perché queste qui sono cose delicate però seguendo il video del Sergio del Sergio è quello ragazzi ogni tanto spara le cagate sui giocatori perché secondo lui noi abbiamo la Juva e lui lui tanti giocatori li 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 mette sul piedistallo tante tante no c'è anche lui ingrandisce tante volte magari certe notizie sul coso ma su queste notizie qua non penso che 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 spari cagate è il sergio insomma questo zang non si trova che fine avrà fatto perché sono diversi giorni è che che non è più in italia diciamola così che sono diversi giorni che non è più in italia allora dicono che che ne avranno messo in cucetta non lo so il tempo del tempo il tempo galantuomo no vedremo vedremo col passare del tempo se questo zang rispunta fuori io non dico altro perché non mi espongo perché su ste robe qua finché c'è da smardare allegri non me ne frega niente finché c'è ma queste qua sono robe un po un po perché non puoi sparare palle su ste robe qua io vado dietro la notizia che ha detto lui poi se sto qua rispunta fuori bon se no non lo so è comunque buona fortuna il signor zang dovuto ovunque lui sia ovunque lui sia però devo da devo fare i complimenti i complimenti l'inter perché nonostante questa questa società di di una società fallita stavano veramente una società fallita sti giocatori qua giocano lo stesso perché io non penso che nessuna o qualsiasi altra squadra magari non lo so avete visto i problemi che abbiamo avuto noi quei problemi che abbiamo avuto noi sono stati cazzi amari e io non lo so se tante altre società con questi problemi qua la squadra sarebbe compatta e giocherebbe come giocano loro è perché l'inter l'inter poi si c'è i giocatori perché c'è giocatori l'inter c'ha tre squadre o ragazzi bisogna dare quel che ha cesare quel che di cesare e loro nonostante tutto giocano 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 col coltello fra i denti e hanno dei dirigenti capaci perché marotta sa tenere il gruppo vedete quando vi dicevo che era tutto marotta lì era tutta la juventus era tutto marotta andato via lui distrutto tutto piano piano ma lui sapeva lui sapevano che quell'incompetente che avevamo lì come precede quello lì era un incompetente quell'altro di sotto di lui era paratici che poi lui l'ha detto che lui alla juvento stava bene non è mica andato via perché perché ha litigato con agnelli lui è andato via perché ha detto che parchi comparatici ma l'ha detto in conferenza stampa che comparatici non voleva avere più niente a che fare che era un testa di cazzo diciamolo così di fatti si è rivelato quello un arrogante presuntuoso che ha distrutto tutto aveva ragione marotta aveva ragione marotta brucia il culo dire quello perché brucia il culo perché non avrei mai pensato di vedere una juventus così ai minimi termini perché non avrei mai pensato di vedere una juventus ridotta in questa in questa situazione qua vedevo le cose che stavano precipitando però non non avrei mai creduto di arrivare a questo punto qua e marotta aveva ragione all'inter vedete possiamo dire quello che vogliamo sull'inter però però lì hanno vinto hanno vinto e ogni anno fanno risultati perché ricordatevi una cosa che questo qua ve l'ho detto una volta sola ma ve lo comincerò a ripetere sempre che il brand il brand aumenta con le vittorie è inutile che ti metti a vendere magliette birra se non vinci la gente non ti tifa la gente non ti tifa la gente non ti segue se continui a giocare così se tu continui a perdere a non vincere mai il brand il brand aumenta con le vittorie è tutto lì eh se vinci hai up e la gente investe su di te se non vinci la gente neanche neanche ti caga e questi qua bene o male stanno a gallia perché vincono perché il giorno che cominceranno a a perdere a perdere che non vinceranno più un cazzo saranno dolori saranno dolori e questo si vede che si vede che marotta ha lavorato bene sulla testa dei giocatori in zaghi ha lavorato bene sulla testa dei giocatori perché quello che c'è da dire bisogna dirlo poi il resto sono altre altri discorsi però comunque per scritto questo volevo dirvi e ti auguro ti auguro una buona giornata anche a te iscrivetevi sempre al canale come dico sempre perché non costa nulla intanto è un iscritto al giorno toglie il medico di tono vediamo se spunta fuori questo questo zang cosa dite spunterà fuori ditemi la vostra se l'avete vista in giro da qualche parte dalle vostre parti magari sarà insieme a dannelli lì in olanda che giocano a carte tutti due sapete che sono amici loro due ci sono sono nemici calcisticamente ma sono amici e difatti sono per me due faliti le faliti amico va chi va con lo zoppi impara a zoppicare no come si dice bom ragazzi vi saluto fate i bravi mi raccomando io saluto sempre gli iscritti perché vi ripeto devo salvi saluterò sempre perché piano piano il canale aumenta piano piano ma è questo quello che conta piano piano il canale aumenta l'importante che sia che ci sia gente brava brava a me interessa questo poi gli spottò ci stanno perché è giusto le notizie ci stanno si può discutere di tutto di tutto quello che volete però basta che ci sia gente in gamba gente brava poi il resto viene da solo faremo un buon canale questo inverno imposteremo il canale diversamente vedrete vi lascio con questa chicca ok un saluto a tutti vado a bermi adesso vado veramente a bermi il caffè e ci vediamo la prossima ciao zang dovunque tu sia è